John Bourne ragazzi, John Bourne e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti. Allora, 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 Di Bala non è più un giocatore della Juventus, o quantomeno non lo sarà più da giugno in poi, perché il suo contratto andrà in scadenza a giugno e quindi niente, quindi Di Bala non sarà più un giocatore della Juventus. Non rinnova il contratto oggi, è ufficiale, lo annuncia prima di tutti i Romeo Agresti e poi ovviamente e batti e ribatti, se ne comincia a parlare, adesso è ufficiale e ovviamente è scoppiato il caso. Stavo pranzando, ero lì a mangiarmi il pollo che avevo appena cotto e niente, ho detto porca vacca, mi sono messo lì e ho voluto prendermi un pochino di tempo per riflettere. Ho detto questo video lo faccio uscire con tutta la calma del mondo, mi sono preso un paio d'ore per ragionare e a questo punto vi posso dire una cosa, ci arriveremo perché poi come titolo è forte, è una provocazione importante, e assolutamente una situazione pesante perché lo è, io credo che ci guadagni solo e soltanto la Juventus. Ma andiamo per gradi, prima di iniziare lasciate tantissimi mi piace se volete altri contenuti di questo tipo e se volete magari anche un video, anzi due video, uno nel quale andiamo appunto a parlare di dove potrebbe andare Di Bala e l'altro appunto dove andiamo a parlare di quello che potrebbe essere il sostituto di Paolo Di Bala alla Juventus. Detto questo, iscrivetevi anche al canale, arriviamo a 500.000 iscritti, mi raccomando arriviamoci. E poi vi ricordo che ogni giorno alle 16.30 siamo in diretta sull'altra piattaforma per parlare di calcio ore 16.30 tutti i giorni. Allora, Di Bala va via a zero. Si diceva, si diceva di un accordo trovato da parte della Juventus con Paolo Di Bala, questa era la sensazione che si aveva, se ne era parlato tipo anche qualche mese fa, poi all'improvviso sono tornati indietro, tra l'altro non so se vi ricordate, lui che segna e fa qualcosa verso la tribuna, poi dice salutavo un mio amico, insomma la situazione era ai ferricorti e si era capita, ci sono stati colloqui su colloqui su colloqui, ogni volta che c'era un confronto veniva puntualmente rimandato. E a questo punto oggi la notizia è di quelle impattanti, cioè Paolo Di Bala non rinnova con la Juventus, a giugno non prolungherà il suo contratto e lascerà i bianconeri a parametro zero. Allora facciamo una premessa, ormai conta troppo la moneta, non sto facendo un discorso populista secondo cui a livello economico ti basta l'offerta eccetera, sto semplicemente dicendo che prima era un mondo, quello del calcio, in cui poche squadre avevano una disponibilità economica illimitata, e quindi tu da una parte magari rimanevi per amore, dall'altra parte rimanevi perché le alternative, quelle realmente forti economicamente parlando, erano poche e quindi spesso nemmeno ti conveniva muoverti, adesso c'è sempre chi ti offre di più. Cioè io penso che in questo momento anche il calciatore che prende di più in tutto il mondo c'ha una squadra che gli offrirebbe almeno un milione in più da un'altra parte e questa cosa ragazzi ha un pochino cambiato come vediamo il calcio e come i calciatori vedono il mondo del calcio e il mondo nel quale lavorano perché qualcuno dice, eh ma la passione è quella e quell'altro, è prima di tutto un lavoro, questa cosa la dovete, me, ve la dovete bere, ve la dovete stampare in fronte, di almeno quando ve la vado la mattina la faccia, lo specchio, lo guardate e ve lo ricordate perché ogni volta la gente è ma quello e quell'altro. Detto questo io non metto in dubbio che Paolo Di Bala sia tecnicamente mostruoso perché lo è, cioè per me Di Bala sulla carta è un fenomeno e vi ripeto e vi continuo a ripetere che se Di Bala magari a giugno dovesse firmare con il Barcellona cosa che per me è probabile perché io, vi ripeto, ma ne parleremo in un video dedicato ma in questo momento due, tre, quattro mete al massimo dove potrebbe andare Paolo Di Bala per me al Barcellona diventerebbe un fenomeno con il gioco di Xavi a tutta fascia sulla fascia di competenza perché lui è un trequartista ma io lo vedrei benissimo in Liga a fare il Messi a giocare sulla fascia secondo me sarebbe perfetto, so che in Italia ha sempre faticato lì perché gioca troppo lontano dalla porta ma la Liga è un altro campionato, è un altro paio di maniche si affronta la Liga in modo diverso, ci sono spazi diversi ci sono analisi tattiche diverse da fare quindi ovviamente in Spagna al Barcellona secondo me non so chi gli aveva consigliato se è Dani Alves probabilmente o Evra o Dania, secondo me Dania Alves aveva detto Di Bala se vuole diventare un fenomeno deve andare al Barcellona io l'avevo condivisa al tempo e lo condivido tuttora però oggi dal pranzo fino a questo momento in cui sto registrando questo video ho letto una marea di commenti tutti la Juventus ci perde, la Juventus nella merda come farà la Juventus senza Di Bala posso dire anche basta allora la condizione fisica di Paolo Di Bala era pessima ha segnato ieri, complimenti, non segnava da gennaio cioè ragazzi noi ogni volta che vediamo Di Bala segnare diciamo torna il gol Di Bala non segnava da 14 del minchiaio del 1900 ogni volta questa storia vi ripeto non metto in dubbio che tecnicamente sia fortissimo ma la tenuta fisica è assolutamente inguardabile è un giocatore discontinuo non è mai stato a mio modo di vedere il top player della Juventus dopo andremo anche, rimanete nel video perché ci andremo ad analizzare stagione per stagione anche quello che ha fatto Di Bala alla Juventus perché insomma c'è un trascorso importante non è che sono qui a nascondermi dietro un dito al massimo dietro una mano ma dietro un dito proprio no e a dirvi appunto che Di Bala non abbia mai fatto la differenza a Torino ha fatto la differenza ma un conto secondo me è fare la differenza un conto secondo me è essere il top player indiscusso il top player indiscusso secondo me la Juventus non lo ha mai visto in Paolo Di Bala c'era sempre un giocatore più carismatico più forte e anche perché lui il grande passo non l'ha fatto mai anche nella stagione in cui Di Bala ha vinto il premio come miglior giocatore della Serie A io vi dico la verità io in primis ma molti di quelli che erano intorno a me sono rimasti stupidi hanno detto ma veramente Di Bala miglior giocatore della Serie A e questo vi fa capire come non ci fosse questo grandissimo distacco magari tra Di Bala e altri calciatori che quel premio non l'hanno vinto questo non vuol dire che appunto la doppietta contro il Barcellona di Di Bala non fu assolutamente carismatica non fu pregna di emozioni io capisco benissimo che i tifosi della Juventus amano, hanno amato e ameranno probabilmente a meno che non andrà in una diretta rivale Paolo Di Bala però vi dico comunque che quella volta in cui Di Bala fece doppietta la Juventus vince 3-0 tutti oh mio Dio Di Bala doppietta col Barcellona perché ragazzi? perché doveva esplodere era in rampa di lancio si stava fermando in un modo pazzesco però poi non è mai arrivato quello perché altrimenti tu che mi fai una doppietta con il Barcellona 2-0 cioè 3-0 mi fai una doppietta io non mi stupisco così tanto ok? cioè se Lewandowski fa due gol col Barcellona dico solito il mio immenso Lewandowski siamo abituati ok? lui è sempre stato lì lì un pochino sotto il diventare uno dei migliori al mondo ma io vi domando Di Bala è mai stato uno dei migliori al mondo? cioè parliamo di del fatto che gli Juventini lo vedessero come nuovo Alex Del Piero ma con tutto il rispetto e l'amore che io possa provare per le vostre considerazioni ma dove? ma cos'è che ha dimostrato? cioè a differenza di Del Piero che si è preso l'ovazione del Bernabeu cos'è che Di Bala ha dimostrato? cos'è che Di Bala ha fatto vincere la Juventus trascinandola e non contribuendo perché contribuendo ha contribuito a vincere tanti scudetti di fila sono il primo a dirlo e non mi rimangio tutto quello che ho detto negli anni ma dov'è che lui ha trascinato la Juventus come ha fatto Del Piero? ragazzi Del Piero è uno che come Buffon e come diversi altri è sceso con la Juventus in serie B con Calciopoli cioè ma di che cosa stiamo parlando? e Di Bala invece è semplicemente un giocatore che quando ha visto che la cintra è leggermente più bassa rispetto a quella che voleva prender lui ha tirato il piede indietro questo è che vi piaccia o no? e sono considerazioni che vanno fatte ok quindi secondo me chi paragona in questo momento perché io comunque nei miei video lo dicevo dicevo Di Bala se dovesse esplodere avrebbe un po' le caratteristiche di quel Del Piero lì potrebbe diventare il nuovo sì ma non ci è mai diventato cioè non mi potete iniziare a dire Di Bala va via il Del Piero del nuovo millennio no degli anni 2000 degli anni 2010 no ragazzi non è così non è così non lo è stato probabilmente l'obiettivo era quello ma personalmente non ci è mai arrivato e tutto questo non è per dire che sia scarso anzi ma che la linea che devi seguire è quella che la Juventus sta facendo ed è quella del Milan cioè io penso che Di Bala per la Juventus sia e sia stato molto meno impattante rispetto che Donnarumma per il Milan cioè ragazzi Donnarumma ha tenuto per anni in piedi il Milan eppure il Milan quando non c'è più stata possibilità di comunicazione ha detto a Donnarumma ti ringrazio per quello che hai fatto la porta è quella se te ne vuoi andare te ne vai a cagare hanno preso Maignan non si è vista la differenza il Milan in questo momento è primo e la pausa l'affronta da primo poi oh io vi dirò mancano 7-8 partite vanno giocate non sappiamo appunto dove arriverà il Milan non sappiamo appunto se vincerà questo campionato però non ho visto questa grande differenza per me Donnarumma è molto più forte di Maignan ancora poi i milanisti diranno no no ad oggi si però Maignan per me ha dimostrato di poter diventare più forte e di poter essere più decisivo per il Milan e quindi il Milan ha seguito la linea giusta io faccio i complimenti al Milan perché ha seguito la linea giusta la linea della Juventus è questa è questa Donnarumma lo ripeto per me al netto era più importante di Dybala per la Juventus Dybala ragazzi prendeva 6 milioni e mezzo l'anno anzi ne prendeva 7.3 se vogliamo essere precisi era il secondo più pagato per dirvi Chiesa ne prendeva 5 ne prende 5 e comunque Chiesa secondo me da quando è alla Juventus ha fatto molto meglio che Dybala ora anche Chiesa deve dimostrare ancora tanto adesso si è rotto eccetera però comunque ha fatto poco alla Juventus pochi anni poco tempo però comunque quel poco tempo ha fatto molto di più rispetto che Dybala in quel tempo da quando c'è Chiesa non dall'inizio ovviamente fatto sta che comunque la Juventus era scesa a 6.5 lui prendeva 7.3 il problema è che lui pretendeva 10 milioni di euro ora ci arriveremo qualcuno mi ha detto a Vesic però se fai un'offerta a ribasso è difficile che un calciatore ti dica di sì e io infatti questo discorso l'avevo preso con Insigne però mi permettete di dire che Insigne è un calciatore completamente diverso da Paolo Dybala in tutto e per tutto Insigne innanzitutto è il leader del Napoli se io penso agli ultimi anni del Napoli io vedo sempre Insigne come leader più di Koulibaly più di Guain quando Guain era al Napoli più di Ozyman più di Giorginio di Allan quando guarda il giocatore che secondo me era superiore a Insigne al Napoli come leader era Marek Amsic poi Insigne e quindi Insigne era fondamentale per il Napoli Insigne viene da stagioni in cui fa sempre sempre la cosa giusta ed è sempre decisivo con il Napoli Insigne viene da un anno in cui ha vinto l'Europeo da stragrande protagonista e da leader dell'Italia Dybala ragazzi viene da anni di merda quindi è normale e poi Insigne prendeva tre e mezzo cioè Insigne prendeva la metà di quello che già prendeva in partenza Dybala cioè gli hanno offerto molto di più per andare a giocare tra l'altro in manco affrontare il Napoli sono due situazioni che secondo me non si incontrano per niente non si incontrano per niente poi vi ripeto questo non vuol dire che se l'Inter il Milan il Barcellona dovessero prendere Dybala non farebbero un colpaccio per me farebbero un colpaccio perché questo è un calciatore che è come il Paris Saint-Germain cioè il Milan a un certo punto dopo tutte le pressioni col fello sul collo di Donnarumma fa anche bene a dire vattene poi il Paris Saint-Germain lo prende fa un colpaccio se lo prende l'Inter domani Dybala fa un colpaccio ma non posso dire di no non posso nascondermi dietro questa cosa però ad oggi se devo parlare della scelta fatta dalla Juventus io non posso non dire che la Juventus abbia fatto secondo me la scelta giusta 10 milioni l'anno per Dybala sono troppi sono troppi io volevo 10 milioni l'anno ma 10 milioni l'anno ragazzi io gli do un top player io gli do un calciatore chi mi fa la differenza cioè vi pensate che la Juventus per tenere Ronaldo e Dybala davanti avrebbe dovuto spendere 60 bombe l'anno cioè in 5 anni tu fai 6 per 5 30 e 30 mili 6 per 5 6 per 5 300 300 milioni in 5 anni ma è un dislivello pazzesco perché poi ti capita che al centrocampo non si reggono in piedi che a sinistra devi lanciare il terzino giovane perché Alexandro non corre perché Danilo è diventato il tuo top player perché comunque a destra non c'è più nessuno perché Quadrato l'hai dovuto spostare in avanti cioè regà è così è un dislivello che per me non ci sta io 10 milioni a Dybala non li do non li do poi io vi ripeto siete molto attaccati a Dybala i Juventini secondo me perché per quella doppietta con il Barcellona perché comunque spesso si è dimostrato ma vi chiedo ma perché Dybala dovrebbe prendere 10 milioni e non Chiesa e non Bonucci e non Cesni e non questo Locatelli vabbè vabbè però e non Vlaovic perché questi non dovrebbero prendere i soldi di Dybala nonostante siano più decisivi di Dybala per me tutti per me tutti ora la cosa che mi fa più paura sinceramente è che vadano su Zaniolo perché è molto probabile e ne parleremo magari in un video dedicato però vi posso dire che Zaniolo pure per la Roma è molto Dybala cioè un giocatore che è sempre rotto che segna una volta ogni tanto che quando gli viene la giocata fa delle giocate clamorose perché poi io amo Zaniolo e come gli Juventini amavano Dybala e lo ameranno probabilmente però comunque si è fatto male per tanto tempo è spesso stato assente ha fatto anche delle partite pessime poi gli riesce la giocata dell'anno e quindi siamo tutti in piedi ad applaudire però anche in questo caso io Zaniolo me lo terrei a vita però ragazzi evitiamo di attaccare la situazione di ieri ieri la Roma ha vinto il derby dominando senza Zaniolo cioè nel senso non è che se Zaniolo va via la Roma fallisce non è che se Dybala va via la Juve fallisce non cambia nulla la Juve c'era prima c'è durante c'è dopo Dybala anzi durante Dybala c'è stata anche senza Dybala e sta cosa secondo me è fondamentale da dire ora forse l'unico errore della Juventus è averlo perso a zero cioè per me qua c'è un errore anche di programmazione la stessa cosa che dicevo con Donnarumma con chi sia adesso eccetera nel senso quando tu vedi che il giocatore fa le bizze a un certo punto dici senti fio mio o rinnovi o te ne vai anche a 20 milioni 30 milioni sei mesi prima che sono spicci però sono spicci che ti permettono magari di curare qualche riscattino di qua prendere qualche campioncino del futuro di là insomma perdere a zero fa sempre male ed è sempre sbagliato però comunque tutto sommato questo secondo me è l'unico errore della Juventus ma poi tra l'altro diciamo anche un'altra cosa diciamo anche che la Juventus in realtà era arrivata ad offrire 7 milioni più bonus 7 più bonus lui ne voleva 10 la Juventus prima aveva offerto 10 poi si è resa conto che il giocatore non sta in piedi sulle sue gambe e quindi ha ritrattato lui ne prendeva 7.2 ok inizialmente la Juve gli aveva offerti 6.5 però è arrivata a 7 più bonus bonus per arrivare a 10 milioni cos'erano questi bonus? erano legati alle presenze perché legati alle presenze? perché Di Bala non riesce a fare più di 25 27 30 presenze in un anno e quindi la Juventus ha detto bene ha pensato bene ma sai che facciamo ragazzi facciamo una bella cosa mettiamo i 7 milioni te li do e poi arriviamo con le presenze lui però che cosa ha pensato? lui ha detto e no e no e no perché io comunque mi rompo sempre mi rompo sempre e quindi io non accetto di farmi ridurre l'ingaggio voglio prendere soldi anche se sono rotto questo ragazzi per me è un un pensiero egoista cioè non mi potete venire a dire Di Bala non è stato accontentrato dalla Juventus Di Bala doveva essere accontentrato ma di che ragazzi ma 7 più tot di bonus per arrivare la città che chiedevi correlata 7 milioni per un giocatore che è rotto mi sembra anche troppo ok per un giocatore che è sempre rotto quindi nel senso se tu pensi di essere in forma beh beh venga accetta l'offerta arrivi a 10 arrivi a 11 arrivi a 12 arrivi a quello che ti pare a te qual è il problema? perché rifiuti? perché sai che hai dei problemi fisici io capisco che lui dice io non posso sapere quante partite gioco e se mi mettono in panchina se sei un fenomeno non ti mettono in panchina se fai il paolo Di Bala non ti mettono in panchina alla Juventus non gliene frega niente di spendere 7, 8, 9 o 10 se poi tu mi porti tot gol per farmi guadagnare 200 milioni di euro il problema è che tu sei sempre rotto e quindi sinceramente mi sembra di parlare del nulla poi non so dove andrà se ha parlato di Inter Milan, Barcellona come vi dicevo ne parleremo in un video dedicato fatto sta che però mi sono scritto un po' di dati per farvi capire anche quante presenze ha fatto Di Bala da quando è alla Juventus allora l'ultimo anno prima della Juventus era rampa di lancio 35 partite su 39 13 gol al Palermo assolutamente sì va bene 15-16 primo anno di Di Bala 46 partite 23 gol ottimo 16-17 48 partite quindi più partite dell'anno prima 19 gol ok va benissimo ancora giovani forti eccetera 17-18 46 partite 26 gol questo è l'anno in cui Di Bala esplode definitivamente 17-18 in 46 partite fa 26 gol dal 18-19 quindi 18-19 19-20 20-21 21-22 4 anni Di Bala non è niente più che un calciatore da seconda fascia anche da terza nella stagione 18-19 gioca ancora tanto fa 42 presenze ma fa 10 gol 5 cioè fa 10 gol 5 in serie e 5 in Champions League nella stagione 19-20 fa 46 presenze quindi gioca ancora ma in 46 presenze fa 17 gol 11 in campionato 3 in Champions League questo è l'unico anno negli ultimi 4 in cui Di Bala è riuscito ad andare in doppia cifra in campionato pensate nella stagione 20-21 fa 26 presenze 20 in meno dell'anno prima 26 presenze perché è sempre rotto e in 26 presenze fa 5 gol 4 in campionato e 1 in Champions League l'anno dopo l'anno dopo quindi questo fa 29 presenze quindi ancora poche ancora poche nemmeno 30 ne ha fatte tra campionato Coppa Italia e Champions League è chiaro e fa 13 gol 8 in campionato e 3 in Champions League Di Bala negli ultimi 4 anni in campionato ha fatto 28 gol in 4 anni ragazzi 28 gol in 4 anni cioè Vlaovic quest'anno ne ha fatti di più cioè stiamo parlando di un giocatore come se tipo e poi a livello carismatico manco a dire che ti spostasse troppo manco a dire perché io sto grande carisma da Di Bala non l'ho mai visto negli ultimi 2 anni ragazzi Di Bala ha fatto 50 partite in 2 anni e tu vuoi dare 10 milioni di euro l'anno netti a un giocatore che fa 50 partite e 12 gol in 2 anni cioè ma di che cosa stiamo parlando ma di che stiamo parlando in campionato tra Champions League e campionato 18 gol e Coppa Italia 18 gol in 2 anni non si può fare e qualcuno dirà vabbè Sik però non puoi mettere tutto in relazione ai gol perché è una seconda punta o un trequartista ragazzi seconde punte che quest'anno hanno fatto meglio di Di Bala Simeone 15 gol Berardi 14 gol Lautaro 14 gol Giopetro 10 gol Caprari 10 gol Barak 10 gol Deulofeo 9 gol Pasalic 9 gol Raspadori 9 gol e poi gol quanti Di Bala Pellegrini con il gol di ieri Milinkovic Pedro Leao e poi Di Bala 8 cioè questi sono solo secondi punti senza contare le prime punte quindi non mi potete venire a dire che la Juventus adesso è fallita cioè io non posso pensare di dover dare 10 milioni di euro regalati ad un giocatore che non riesce a giocarmi più di tot gare e poi mi sembra anche assurdo che Di Bala venga a battere cassa in una situazione in cui la Juventus sta facendo cagare perché ora vabbè non sta andando meglio però nel senso rispetto al 2018 ad esempio non vince più il campionato non si gioca più la Champions esce con il Villareal eccetera e a parte il 2018 poi se non sbaglio era uscita con un'altra squadra di medio livello forse la Jax però ha fatto stare che questo è e comunque Di Bala ragazzi io vi ripeto i primi tre anni di Juventus lui fa tantissimi gol 50 59 65 68 gol in tre anni sono tantissimi nei successivi quattro anni ne fa 40 cioè capite che cosa sto dicendo è un giocatore che nei primi cinque anni di Juventus fa dalle 42 alle 48 presenze negli ultimi due anni l'anno scorso ne ha fatte 26 questa non ne ha fatte 29 cioè in tutte le competizioni considerando che la Juventus in campionato l'anno scorso cioè in tutto l'anno l'anno scorso la Juventus ha fatto 38 partite di campionato poi Champions League ha fatto le 6 gare quindi 44 e i due ottavi 45 e 46 poi è uscita in coppita le ha fatto 47 48 49 50 51 su 51 presenze lo scorso anno Di Bala da giuare 26 ha fatto 5 gol cioè ma di che cosa parliamo comunque fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto iscrivetevi al canale se non l'avete fatto io vi ringrazio per aver visto questo video vi ho lasciato tantissimi mi piace fatemi sapere la vostra sono molto curioso buo cialala e noi come sempre ci vediamo ad un prossimo video